... ... ... Papa invece nella medana del peso di nuovo l'Atele del Niente o Susanna Dellini ... ... che ha vinto peraltro con le donne Il campionato di società all'Aquila decide di annullare, comunque vince, campione uscente e ancora un titolo. C'è una parola che entra in città davanti a noi per la categoria 85.